iscriviti al canale per un divertimento senza fine adoro la spa non esiste niente di più ri di più rilassante cos'è quello gioielli è il nuovo trend degli influpets ehi quella è peggie b l'influpet più famosa di tutti gli influpets quanto vorrei essere un influpet come lei mi piace il suo stile quello che ne l'ha fatta è veramente cool andiamo a parlarne con fabio e fabia sicuramente sapranno di più di questo trend d'accordo ma senza stress in modalità relax ciao siamo cagnolini molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure big bets, big bets, siamo le big bets se stiamo insieme noi non ci fermiamo lotta paura inizia l'avventura I love big bets è arrivato il trend Glam Gems non ho superato l'esame solo otto in totale otto è un buon voto va bene il test per prendere la patente per guidare la moto comprende 20 domande e tutte sulla parte meccanica come controllare l'olio del motore questo mi fa venire in mente che è il momento di controllare l'olio del salone mobile Sio per favore taci scusa è che sono super nervoso perché sta per arrivare lei ti prometto che starò buono ciao eccomi qua Fabio Peggy B finalmente non sei cambiato da quando seguivi l'acconciatura di Queen Pet? e tu sei perfetta come al solito adoro il tuo lucro Peggy B è un'autentica opera d'arte sì lo so non vi sembra scintillastico? scintillastico? stavo per dirlo io lo potremmo copiare tu non credi Fabia? eh? io non direi è un po' troppo spregiudicato va bene io vado a studiare nel salone mobile wow ma è Peggy B in carne e ossa ehi Peggy ti presento Nila Juliet Gwen Lady Gigi e Maya sono le V-Pets ciao a tutte V-Pets è un piacere conoscervi il piacere è tutto nostro che cosa ne pensate del mio look? sono delle splendide gemme celestine è adorabile vorrei averle anch'io come possiamo fare? tanto fa a essere un influpet come si fa a lanciare un trend? V-Pets per favore modalità relax sono i tuoi follower come mai tutti questi messaggi? perché tra dieci minuti devo partecipare a un evento importante in periferia e aspetta un momento tra dieci minuti oh no sono in ritardo oh? in ritardo? non ti preoccupare ti accompagniamo noi con il salone mobile su andiamo solo un momento aiutatemi a prendere l'essenziale bigodini pettini e tinturi e olio olio per il salone mobile coraggio ragazzi questa è tintura oppure è olio? ehi là mi avete sentito? deve essere olio assicuratevi di verificare l'olio prima di partire reggie deve correre al suo evento io stavo finendo di ripassare la parte meccanica allora scendo non c'è tempo sta tranquilla ti spiega tutto tuo zio strada facendo ciao pet follower ho avuto un piccolo contrattempo ma non preoccupatevi spero di arrivare in tempo a proposito del tuo esame non preoccuparti puoi chiedermi qualsiasi cosa e osserva bene com'è bravo alla guida tuo zio Fabio attento ha il segnale stop devi fermarti lo sapevo perché il salone mobile non si muove? mi sembra che il motore faccia un rumore strano non fa nessun appunto ehi pet follower ascoltate il salone mobile ha avuto un guasto e non riparte più non preoccupatevi vedrete che insieme riusciremo a sistemarlo modalità relax qui non vedo niente non c'è nulla di strano nemmeno qua magari c'è qualcosa nel tubo di scappamento no non vedo niente di insolito prova di nuovo a dare gas zio è come se il motore non riuscisse a respirare wow Nila che meraviglia il tuo look il verde ti sta veramente bene cosa? perché? ho un occhio verde hai un occhio verde? ma certo c'è della tinta verde nel motore ma come ci è finita dentro? io io pensavo fosse olio mi dispiace tanto zio Fabio schiaccia l'acceleratore così la tinta verrà fuori di più accelera ancora coraggio così così ancora un po' sì no cavoli Nila vedrai che Fabio potrà sistemarti sì ma Peggy tu devi partecipare all'evento lo so ma prima le cose importanti ecco Nila questa è per te per averci resi più sereni e per essere stata una buona amica una gemma per me oh ti ringrazio adesso sì che mi sento rilassata wow non riesco a smettere di guardarla splende tanto da accecare puoi pensare tu all'acconciatura se ti fa piacere beh a meno che tu non debba studiare guarda qua ho fatto 20 su 20 ho imparato alla perfezione la parte sulla meccanica dopo questa storia e ho passato l'esame splendido allora cerchiamo di arrivare all'evento mentre tu sistemi il look di Nila io penserò a guidare purpurite style stai benissimo sei stupenda lo sapevo dai di qualcosa in video ciao guardate il mio nuovo look non sembra un influxet mi dispiace Peggy V io non sono pratico di questa zona alla fine non siamo arrivati in tempo non importa lo faccio sapere ai miei follower mi dispiace non aver potuto essere all'evento ma ci abbiamo provato e grazie alle V-Pets in realtà ci siamo divertiti un sacco giusto? sembra che abbiano adorato la mia diretta di due ore non ne avevo mai fatta una così lunga o così divertente vi ringrazio V-Pets torniamocene a casa ora ehi un momento ma dove siamo? che posto incantevole com'è carino qui cosa sono quelle luci? ho l'impressione di essere osservata oh ma certo adesso ricordo siamo a I love V-Pets nell'episodio precedente ehi quella è Peggy V ciao quanto vorrai essere un influpet come lei ecco Nila questa è per te gioielli è il nuovo trend degli influpets dove siamo? cosa sono quelle luci? ho l'impressione di essere osservata oh ma certo adesso ricordo siamo a oh caspita è così questa è Cat Town wow che bella quanti neon colorati sì sembra piano giorno beh non esageriamo forse è meglio andare via ma se siamo appena arrivate dai facciamo un giretto ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure V-Pets V-Pets siamo le V-Pets se stiamo insieme noi non ci fermiamo l'altra paura inizia l'avventura I love V-Pets benvenuti a Cat Town che forte è questa città non vedo più niente Fabia dove sei? V-Pets venite questo è uno dei miei posti preferiti il vicolo del ramen il ramen torno subito c'è odore di ehi tu Dotto che ti ha suggerito quel look con la gemma forse Peggy V esatto è una nostra grande amica e un giorno saremo in flupaccia proprio come lei è vostra amica? ah certo che buoni quei noodles wow Peggy V io sono la tua più grande fan no la più grande sono io dobbiamo andare andare dove? quella gemma è nostra è nel nostro territorio no è di Nila gliel'ha data Peggy V hey la gemma è nostra sta meglio a noi questo è il nostro stile spicca su tutti voi hey guardate qua che bei colori un po' di affetto avrai capelli luminosi sono sette vite e le rischieremo tutte siamo creatività e stile a volontà tutti sanno che saremo delle in flupaccia coi capelli fluo più brillanti perché noi saremo sempre più veloci di te il successo è il destino pronto per me ci batteremo per la gemma hey vai 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 ora vai 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 noi saremo le in flupac più forti vedrai vai 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 ora vai 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 il traguardo sarà nostro e tu perderai scoprirai chi siamo e poi tu saprai quanto valiamo lo capirai sì sarà nostra quella gemma se lo vorrai ora vi informiamo noi ci rinnoviamo ogni aspettativa superiamo siamo in formazione con motivazione le nostre acconciature sono un'evoluzione forse ora dovremmo rilassarci e poi collaborare diventare amiche se vuoi non siamo diversi siamo simili unite noi saremo invincibili insieme regneremo sì hey vai 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 ora vai 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 noi saremo le in flupac più forti vedrai vai 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 ora vai 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 il traguardo sarà nostro e tu perderai scoprirai chi siamo e poi tu saprai quanto valiamo lo capirai sì sarà nostra quella gemma se lo vorrai insieme è meglio stilose per sempre sentite mi è venuta un'idea volete diventare in flupezze e avere la vostra gemma allora dovete guadagnarvela chi indovina che accessorio userò alla mia sfilata vince la prima gemma beh ma come facciamo a prevederlo per essere un influpette devi anticipare le tendenze e lasciare il segno purtroppo quegli occhiali sono insostituibili grazie a loro vedo le particolarità dei capelli di ogni mia cliente non preoccuparti insieme li troveremo non c'è niente sull'accessorio misterioso ho cercato su tutto l'istapetto ciao bitpads ci aiutate a ritrovare gli occhiali di fabio ma che cosa state guardando? mi scusi tanto signora non volevo zio non è una signora Peggy V ha detto che bisogna lasciare il segno sì ma chissà che cosa volevo dire è troppo difficile ci puoi dare un indizio per favore? una vera influpetta deve saper superare ogni ostacolo guardate quel manifesto di certo la risposta è lì non riesco a vedere niente è troppo in alto ma non avevi una vista perfetta? facci vedere cosa sai fare forza Kitty so che puoi avvicinarti di più vinceranno loro cosa facciamo? potete fare una torre a Yoga Yo! forza vi manca pochissimo un influpetta non si arrende mai ragazze sta per cadere attenti attenti a noi serve la vostra creatività e a voi invece la nostra agilità perciò dobbiamo collaborare? no cara Selena ha ragione hai già un piano ascoltate bene non sarà facile rilassati capitano tutti le giornate no e spesso anche forza continuiamo a cercare no tanto è inutile sono rovinato coraggio ragazze salite io non vedo niente ho trovato è una corona l'accessorio segreto è una corona una corona una corona l'ho detto prima io no prima io la gemma è mia tu Selena hai convinto tutte le altre a fare squadra la gemma è tua che bello grazie Peggy ne abbiamo passate tante insieme zio guarda e come faccio non vedo più niente non sai che sollievo grazie di cuore è tutto merito di Selena grazie puoi chiedermi qualsiasi cosa qualsiasi bene allora puoi farmi l'acconciatura con la pietra di luna moolton style sì questa acconciatura mi sta proprio bene facciamo una foto insieme chissà quale sarà la prossima amiche e amici voi non ci crederete ma ho conosciuto delle cagnoline e gattine che si detestavano e ora stanno diventando grandi amiche ciao Peggy B sono Aurora sono appena arrivata a Glam City e non conosco nessuno mi dai qualche consiglio su dove andare ciao Aurora conosco le v-fets perfette per farti vedere il meglio di Glam City stai tranquilla me ne occupo io ah è Peggy B pronte per la sfida di oggi? certo super pronte chi indovinerà quali sono i posti più in di Glam City riceverà in premio questo diamante e ora seguite i miei indizi questa volta vinceremo noi la Gemma per prima cosa andate a vedere i pets che stabiliscono l'ultima tendenza sulle ruote la troverete Aurora che vi accompagnerà per tutta la sfida così conoscerete i posti più interessanti della città buona fortuna che ruote che ruote e di quali pets che magari siano in un parcheggio però mi sembra strano ho un'idea ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure big pets big pets big pets siamo le big pets se stiamo insieme noi non ci fermiamo lotta paura inizia l'avventura I love big pets sfida raccolta cos'è questa roba? volevo rinnovare le decorazioni del salone ma forse ho un po' esagerato a me ricorda tanto Natale veramente io avrei un'idea decoriamolo secondo la tendenza più alla moda del momento venite guardate tutta la città è decorata con le gemme tranne il nostro negozio nipotina mia sei un geniaccio se io mi stai strigolando caspita che bei salti solo a guardarti mi viene voglia di ballare sei Aurora? ciao noi siamo Nila Silla e Lady Gigi Peggy V vuole che tu venga con noi seguendo i suoi indizi misteriosi vinceremo il bel diamante in pari oggi veramente? noi siamo Selena Misteri Kitty ed Electra bene eccovi tutte riunite lei come fa a saperlo? quindi la sfida continua ora dovete trovare il posto più allegro e vivace della città così Aurora si divertirà Glam City Aurora che hobby ti piacciono? beh mi piacciono la ginnostica ritmica le gemme acconciature e la musica perfetto allora ti parto nel miglior negozio di dischi della città è un posto allegro dove c'è sempre musica ma dov'è? io non l'ho mai visto ci penso io Gwen ci serve il tuo aiuto dobbiamo trovare un negozio di dischi e seconda prova eccoci qua siamo arrivati anche noi finalmente avete trovato il miglior negozio di dischi di Glam City lei come fa a saperlo? vi meritate una pausa la prossima prova consiste nel trovare il posto più rilassante della città facile non c'è niente di meglio di un massaggio non è vero la cosa più rilassante è il solletico oppure ballare ho una lezione di yoga vieni con me ti porto alla spa più rilassante di Glam City no così invece sembra la festa di Halloween ho un blocco creativo niente paura zio adesso faccio una ricerca sul campo fantastico mi sento leggerissima è davvero stupendo congratulazioni Vippets e adesso che siete tutte sul posto ma lei come diamine fa a saperlo? vi do l'ultimo indizio ora dovete trovare il luogo più salato di Glam City lì potrete vedere la gemma più grossa della città e anche uno splendido tramonto Aurora non può perderselo se è salato forse ha a che fare con il cibo? ho quei camion che lo vedono ma certo dentro potrebbe esserci una gemma vieni con noi siamo stati a noi ad avere l'idea aspettatemi ecco qua ma se invece queste fotografie sono fantastiche mi hanno dato l'ispirazione forza al lavoro se la gemma è così grossa perché non riusciamo a vederla? tranquilla io ho un fiuto imbattibile per le gemme ops io qui di gemme non ne vedo abbiamo fatto fiasco è chiaro che è in un altro posto beh se ti era così chiaro perché sei venuta calmatevi ragioniamo tutte insieme qual è la cosa più salata che vi viene in mente? oh ah beh non che abbia molto senso ma la cosa più salata che mi viene in mente è il mare però non ci sono gemme nel mare giusto? un doppio indovinello forse non è una vera gemma quella che dovete trovare questa cosa ci sta sfuggendo di zampa oh ci sono la gemma più grande senz'altro il sole benissimo allora abbiamo il mare e il sole perciò il posto migliore per ammirare il tramonto è la spiaggia aspettatemi bravissime avete risolto tutti gli indizi e ci siete riuscite ragionando insieme siete un'ottima squadra ed è tutto merito tuo Aurora sei stata l'ospite perfetta senza di te sarebbe stata una sfida impossibile questa gemma è tua wow ma Peggy B tu come facevi a sapere sempre dove eravamo? segreto di influpette Fabio che bello il salone con queste gemme merito del nostro lavoro di squadra ciao oh caspita che meraviglia complimenti il salone addobbato con tutte queste gemme è davvero stupendo ciao sono Aurora che piacere conoscervi il piacere è tutto nostro Aurora un diamante è la mia passione per favore mi fai una gemma acconciatura col diamante ma certo diamond style che meraviglia stai benissimo così grazie amiche ma la cosa più bella è stata conoscervi abbiamo una nuova amica veramente lei è più amica nostra che vostra ma che cosa stai dicendo noi siamo amicissime i love it best bell' bell' Grazie a tutti.